India, vieni qua, India, dammi un bacio, dammi un bacio, vieni dammi un bacio, vieni dammi un bacio, dammi un bacio India vieni qua, 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 vieni qua Eccola qua, eccola come linguazzo, eccola qua. Questo vuole, si vuole mettere a linguazzare, si vuole mettere a dare i bacetti e cercare qualcuno che la carezzi. Tutte quelle ragazze che fino ad ora in India si linguazzava le gambe perché voleva essere accadezzata, nessuno ci ha dato conferenza. Solo poche loro ci hanno dato conferenza, si sono abbassate e non hanno accadezzato. Eccolo qui, eccolo qui. Y1-0, i ragazzi 0, solo pochi. Allora ci appartiniamo le galezze delle ragazze. Ecco che cosa vuole, questo, eccolo qua. Ah, aspetta.